Impressionante il buco scavato sul pendio della collina sopra Sezzano. Basta alzare lo sguardo per vedere uno degli sfregi alla bellezza della natura della Val Pantena. Così li hanno definiti ieri questi interventi durante la manifestazione organizzata nel campo di calcio di Santa Maria in Stelle dall'Associazione Monastero del Bene Comune di Sezzano. Ad aderire una cinquantina di associazioni come Legambiente, WWF, Asma, Verona Polis, Mammeno Fast, Medici per l'Ambiente, solo per citarne alcune. La natura è oggetto, è una risorsa che viene sfruttata per il mercato e qui tutto è oggi come oggi, è in mano alla finanza. Che cosa conviene fare? Non si guarda niente, non si guarda anche il modo di coltivare la vita, non tutti rispettano la vita, non ci sono coltivazioni biologiche. E quindi questo è un bel problema, ma non si vuole protestare, si vuole dire adesso basta, dovete stare attenti, guardare bene l'ambiente, i problemi che ci sono. Non si può usare, depredare il territorio in questo modo. Sotto accusa in particolare i due capannoni autorizzati vicino al Monastero degli Stimatini di Sezzano e lo sbancamento della collina. Nulla di fuori legge, ma appunto la protesta nasce dalla constatazione della legge stessa che in nome del guadagno del profitto dell'industria del vino sbanca colline, autorizza costruzioni, capannoni che niente hanno in comune con la difesa dell'ambiente di cui tanto oggi si parla. Le leggi consentono di realizzare, anche nelle nostre colline, realizzare delle costruzioni che sembrano di carattere industriale. Si trasforma la zona collinare in una zona industriale, magari è adatta, è funzionale l'agricoltura, per questo più che l'agricoltura ha la viticoltura. Quindi ci chiediamo come mai è possibile che ci siano queste autorizzazioni. Perché l'ambiente va tutelato, va tutelato perché è la nostra vita e anche perché pensiamo alle generazioni future, che cosa accadrà? Perché quando la viticoltura non sarà più, il vino non sarà più un mercato appetibile, che cosa accadrà di queste colline?